Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di piante contro zombie Allora, siamo al secondo livello ancora e dovremmo essere comunque vicini alla fine Stiamo combattendo molto spesso di notte, abbiamo trovato tante nuove piante E, avete visto, adesso abbiamo l'enciclopedia suburbana Le piante iniziano ad essere veramente tante e tra una cosa e l'altra gli slot ci fanno molto comodo Sono aumentati anche gli zombie, ne abbiamo visto Eh, zombie rugby sta non ancora incontrato e temo che lo vedremo adesso Proprio ora Allora, e vediamo un po' Sì, eccoli qua Vabbè, solito girasole Solito buon porcino Non ci sono quelli con le porte quindi posso evitare il fun porcino Però induce uno zombie a combattere per te Questo lo voglio provare Sparabrina, è fighissimo Lo spara semi, cavolo, non lo so Ma il porcino è ottimo E Cosa metto? Il mangiatombe Quasi quasi Anche se voglio dire Non è che sia proprio sto Va bene, mettiamo il mangiatombe Sì, ho fatto bene a metterlo, madonna, che casino Ok Iniziamo a piantare i funghetti Ecco le qua Ecco le qua Ragio Beh, va bene a metterlo ottimo cominciano ad arrivarmi a pure dei soldini allora una linea di dei malforcini questa qua dovrebbe anche andare bene che a miseria già cominciano a mangiarli portico giuda vabbè non è un grossissimo problema è però che cosa cavolo è questo voglio provare a come cavolo funziona ok forse ah fighissimo fighissimo ottimo proprio oh e per la miseria vabbè è andato via peccato va bene quello rugby sta mi mi sapeva di potente quindi fammi leva sta tomba che ha proprio rotto le palle mi dà pure dei soldini oh oh che scorda di zombie oh corca miseria il macello va bene oh oh ragazzi sono nei casini sono proprio nei casini sì perché adesso questi non lo mangiano però tutto ciò è male tutto ciò è molto male tutto ciò è malissimo ho un giusto di questo mi sa che ho perso non mi ero accolto che questo ci aveva il cavolo di ho perso ho decisamente perso sì sì eh sì ma come porcino tiratore colpisce nemici distanti e si nasconde quando sono vicini ah oddio questa è una figa ma ho passato il livello eh così sembrerebbe ma perché ho passato il livello ma senti ma se uso eh no vabbè no buon porcini e girasoli servono questi servono ah devo usare anche il fun porcino per forza questo mi serve l'ipno fungo per questo qua perché è fortissimo eh ragazzi questo è un problema perché il mangiatombe non esiste non posso tenerlo non so bene eh no vabbè devo fare così sì sì devo fare così per forza ma il porcino soprattutto negli scenari di notte lo devo tenere per forza che se no non ho abbastanza sole eh vabbè ragazzi devo dire che non ho molta altra scelta devo fare così anche perché la sparabrina la adoro ma arrivare a 175 in questo scenario qua è un po' un problema onestamente madonna quante tombe ah che arriva vabbè uno di quelli normali è in grado di di sconfiggerlo in effetti però per sicurezza vabbè cavolo la mangiatombe sarebbe stato fondamentale qui mi sa che perdo vabbè vabbè oh vabbè vabbé non di vabbè Porca miseria Qui non c'è niente Su questa linea Porco Vabbè Speriamo che Sia sufficiente Ok va qua mi servono i 5 girasoli Per forza Ok va bene Iniziamo a ragionare Questa Questa è un giro Questa è un giro facciamo così va ok va bene qui dovrebbe andare bene questi mi piacciono molto facciamo un po' una linea di lo sta quello con la porta senti cominciamo un po' a eccolo va bene direi che è sufficiente quello che sto raccogliendo il mangiatombe avrei dovuto farlo ammazzione non Grazie a tutti. Molto bene. Avrei dovuto prendere il mangiatombe. È una rottura di palle questa roba qui. Purtroppo usciranno da qua e succederà un macello adesso. Ecco lì qua. Disgraziatamente adesso quello è per l'appunto. Oh, ma quanto cavolo! Oh, perfetto. Ma questi si nascondono, però vengono mangiati lo stesso alla fin fine che l'ho presa a fare. Vabbè. Che cosa è questo coso? Brim Porcino. Immobilizza temporaneamente tutti gli zombie sullo schermo. Ah! Questo è tipo il panic button. Ok. Va bene, però onestamente... Che cos'è questo? Che cos'è un disco zombie? Oh mio Dio! Ma il porcino mangiatombe, assolutamente. Ipnofungo? No, non vedo... Un porcino neanche. Quindi posso decisamente utilizzare... Sparabrina, fattivamente sarà difficile. Un porcino è utile. Perché colpisce tutti. No? Tutti gli zombie in una nube. Ah, e questi... Questi dorme durante il giorno. Ok. Quindi questi qua sono solo notturni. Beh, d'accordo, dai. Il fun porcino mi piace. Mi sa che me lo tengo. E... E... Il mangiatombe ce l'ho. Boh vabbè, il brim porcino me lo tengo giusto per provarlo una volta. Vedere un po' come va. Quel po' di tombe al solito. Queste due le levo immediatamente. Guarda quanto ci vuole a ricaricare questo. Vabbè. Era anche prevedibile. Ma tocca una sorta di bomba che blocca tutti. Ok, ok, coraggio. Tanto costano zero questi. Sono per diventare i miei preferiti comunque, ufficialmente. Oh oh. Ok, ne servono tre. Decisamente non ho abbastanza... A posto. Che cosa è questo? Oh mio Dio! Che macello... Stai scherzando? Ma che è sta roba? Oh mio Dio! Ma è potente! Altro che... Ma è potente proprio! Porca miseria! Vabbè! Comunque sia... È andata. Cominciamo un po' a mangiarci le tombe, va! Non c'è proprio voglia... Anzi, devo farlo molto velocemente, altro che... Ma miseria! Posto. Un po' ne ho mangiate almeno. Oh no! BAM! Colpisci, colpisci per l'amor di Dio! Colpisci tutto e tutti il più possibile! Ok, ok, no, adesso attendi un secondo! La producono ancora sole? Oppure devo stare fermo così? Non lo producono più! Non mi posso pigliare le bombe! Eh, le bombe! Le tombe! Eh no, mi sa che... No! Vabbè! Procediamo! Atom porcino! Distrugge una vasta area lasciando al suo posto un cratere! Ok! Ah, mi stai dicendo che praticamente poi non ci posso più mettere le piante! Ok! Va bene! Ragazzi, direi di terminare qua! Cavolo, siamo ancora a livello 2! Non pensavo! Tante piante, tante combinazioni! Madonna, il disco zombie mi ha lasciato... Mi sono un attimo congelato e cagato in mano nello stesso tempo! Va bene! Ragazzi, direi che per oggi è decisamente tutto! Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto! E lasciate un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie! D'accordo? A presto!